A Lucca cambia il servizio di raccolta degli indumenti usati. Stoppa i cassonetti sparsi sul territorio comunale, troppe volte purtroppo diventati luogo di sporcizia e degrado. Gli indumenti potranno essere conferiti solo nei centri comunali di raccolta e nella sede di sistema ambiente. La decisione prende spunto dal termine del contratto con la cooperativa individuata nel 2018 per la raccolta degli indumenti usati, che scade appunto con la fine di settembre. La rimozione degli 86 cassonetti gialli sul territorio è già iniziata. Dal mese di ottobre sul territorio del Comune di Lucca cambierà la raccolta e il recupero degli indumenti usati. Il sistema ambiente di concerto con l'amministrazione comunale ha voluto cambiare la modalità dando più forza e vigore a questa iniziativa andando verso una razionalizzazione, sempre però nel nome della garanzia verso la tracciabilità degli indumenti e anche la tutela del decoro urbano. Gli indumenti, oltre che alla sede di sistema ambiente a Borgo Giannotti, dovranno quindi essere conferiti nei centri di raccolta video sorvegliati di Sant'Angelo in Campo, Pontetetto, Mugnano e Monte Sanquirico. Comune e sistema ambiente possono contare sulla collaborazione di organizzazioni no profit, come il centro del riuso da capo, che si sono rese disponibili ad accettare gli indumenti che verranno portati nei centri.